Pioli sei un fenomeno! Pioli sei un cazzo di fenomeno! Sei un cazzo di fenomeno sei! Sei un cazzo di fenomeno! Pioli sei un cazzo di fenomeno! Sei un cazzo di fenomeno! Dovrebbe darti un record del mondo! Perché le cagate che fai! Per le cagate che fai! È due giorni che si sa che fai turnover! Tutti, tutti, tutti a dire che non è un'idea da... Che potrebbe funzionare! Tu cosa fai? Turnover! Mandando in campo dei cani! Dei giocatori del cazzo! Tu hai mandato in campo insieme! De Ketler, Oricchi, Rebic e Palloturè! E io già lo dissi mercoledì! Nel post partita del Napoli dissi! Guardate! Che domenica e sabbia! Quando cazzo è lì si fanno fare dei punti al Bologna! E no! E non è vero! E a Bologna si vince! E ti cazzi! E poi, come sempre, ho ragione! Come sempre ho ragione! Io perché ho ragione! Io ho sempre ragione! Ho talmente tanta ragione! Che dopo 30 secondi hai preso gol! Hai preso gol come... Dio porco sta roba! Hai preso gol come... Con il giocatore del Bologna! Che mette a sedere chi? Rebic e Palloturè! Bravi! Bravo! Bravo Pioli! E qua riprendo un discorso! Che faccio da gennaio! Continuate a difendere Pioli per lo scudetto! Continuate a difendere Pioli per essere i quarti di Champions League! Continuate a difenderlo perché il vero Pioli è questo! Il Bologna ha un tiro in porta a un gol! La Salernitana ha un tiro in porta a un gol! Però Pioli è bravo perché vince 4-0 a Napoli e vince in Champions League! Lì Pioli è bravissimo! Bravi! 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 Continuate a difenderlo! Continuate a difenderlo! Ti cambia dieci undicesimi! Il problema è che tu li potevi anche cambiare dieci undicesimi! Ma oggi! 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 Dovevi arrivare a questa partita con 15 punti in più! Questo è il problema! I punti persi con l'Empoli! Con la Salernitana! Col Sassuolo! Perché 5-2 è risultato abbastanza grosso! Ma tu in casa col Sassuolo non devi perdere! Dobbiamo continuare l'elenco! I punti persi a Cremona! L'elenco continua! Tu arrivavi oggi dove dicevi se pareggio o pareggiato! Ma almeno la condizione di classifica mi permette di farlo! No! Tu sei così scemo che non ci arrivi! Sei così scemo che non ci arrivi! Vai in campo e fai la solita figura di merda! Noi i gol c'è da inventarceli! C'è da inventarceli! Quando Ternand e Fira piglia la scheda e il portere va in porta! Quando Pomega fa un tiro al volo che ci riprova 100 volte per altri 100 anni non lo rifà! Questi sono i gol che facciamo! E con l'unico di riporta che fanno quegli altri cosa succede? Prendi il gol con il difensore che ti viene anticipato! Ma a noi cazzo! Una volta che si anticipi il difensore di quegli altri esiste! Una volta! Regalatemi un 1-0 anche contro il Lecce la prossima dove facciamo gol anticipando il difensore loro! Non siete capaci! Perché siete dei giocatori di merda! Allenatore compreso! Perché non è che Pioli è bravo quando vince in Champions League e fa cacare quando non vince in Champions League No! Pioli hai sbagliato tutto dall'inizio dell'anno! Hai sbagliato tutto! L'anno scorso questa partita l'avresti vinta! L'avresti vinta! E no! Ti mancano le palle! Mandi in campo Repic un giocatore che è inutile che farebbe panchina ora o come ora anche al Bologna! Mandi in campo Righi che farebbe la tribuna nel Bologna! Mandi in campo gente così! Ma ti vuoi svegliare un secondo? Perché tu ovviamente fai il processo inverso! Non è che dici vado con i titolari! Così! Ma che vada! Vado in vantaggio 1-0! 2-0! Poi faccio entrare i Vrancs! Poi faccio entrare Ballotouré! Poi faccio entrare i Rebic! No! Tu fai l'inverso! Tu prima prendi gol! E poi devi mettere i titolari per ripigliare il risultato! Che comunque non avresti mai ripreso! Non avresti mai ripreso! Perché ti conosco! Non hai vinto con i titolari con l'Empoli! Dovamo aspettarci che tu la recuperassi oggi! È già tanto se hai fatto un gol! Ma perché è veramente tanto se hai fatto un gol! E che ci rimette? Ci rimettiamo noi! Che siamo qui! Che possiamo uscire! Possiamo andare a fare le cose! E guardiamo queste cose in tv! Tutti fine settimana! E non mi parlare della Champions League! Non te la voglio sentire nominare la Champions League dopo! Non te la voglio sentire nominare la Champions League! Perché tu non la devi giocare quest'anno! Tu la devi giocare anche l'anno prossimo! E metti cazzo che tu arrivi in finale! Non succede! Ma se succede che ci arrivi! Tu mi continui a giocare così fino a metà maggio in campionato! No ciccio! Perché poi arrivi che i punti non ti bastano! Per andare in Champions League! Non ti bastano! E ti ripeto! Ti attacchi al cazzo! Perché non hai i punti per arrivare in Champions League! Vogliamo giocare l'Europa League il prossimo anno? Giocatevela l'Europa League! Giocatevela! È vostra! Tanto non abbiamo mai vinta! Magari il prossimo anno è anche la volta buona che ci proviamo! Perché così! Così! Così non mi fate fare altro che spaccare sto studio! Vogliamo parlare della partita? Parliamo della partita! Il VAR funziona solo! Allora io non mi attacco mai all'arbitro! Lo sapete che non mi attacco mai all'arbitro! Quando le cose però sono evidenti! Quando sono evidenti! Vanno notificate! Notificate! Perché vanno notificate! Al Milan mancano due rigori netti! Uno nel primo e uno nel secondo tempo! Mancano due rigori plateali! Significa che questo è determinante? No! Semplicemente significa che nonostante questo voi dovevate dovevate vincere questa partita! Perché se Leao prende la palla la mette nel mezzo e Brendia se la cicca sottoporta e io i rigori me li metto al culo! Se Rebic anticipa per una volta il difensore e la palla gli sbatte in faccia e va fuori i rigori me li metto al culo! Perché sei tu Pioli che mandi in campo sta gente! Sei tu Pioli! Sei solamente tu! Che poi Bologna sia un campo difficile! Non prendeva gol in casa da tre partite! Ha vinto con l'Inter in casa a me non me ne frega niente! A me se il Bologna ha vinto in casa con l'Inter per due volte di fila non me ne frega niente! A me se il Bologna ha un rendimento da Champions League post mondiale non me ne frega niente! Non me ne frega niente! Questa è una partita che tu devi vincere! Quando possiamo tornare a vincere in campionato? Poiché è tolta la partita di Napoli perché è stata una partita molto particolare non vincere la partita con l'Atalanta giocata il 25 febbraio 26 febbraio quando era che si è giocata quella partita Frentina Salernitana Udinese Empoli e Bologna hai fatto tre punti in cinque partite ecco arriviamo a otto perché c'è la sesta partita che è quella di Napoli arriviamo a 6 punti in otto partite perché c'è la partita di Napoli nel mezzo però però se tu mi perdi a Napoli ma mi vinci contro Frentina Udinese Salernitana Empoli e Bologna non è meglio secondo te? non è meglio perdere una partita contro una squadra che con te non ha più niente da dire che comunque anche avessimo vinto a 10 a 0 non sarebbe cambiato niente il livello di classifica e vincere contro le altre visto anche il passo che tiene chi sta in lotta con te no Pioli non ci arriva Pioli non ci arriva ci dobbiamo arrivare noi e ci dobbiamo incazzare ci vediamo domani fare la reaction faffanculo vai e ci vediamo